Di film in cui è presente il tema della solitudine ce ne sono tanti, ma in pochi secondo me è il tema principale. Tra questi ne ho scelti i tre e il primo di cui vi parlo oggi si intitola Castaway on the Moon ed è un film del 2009, sudcoreano. È ambientato a Seoul e il protagonista si chiama Kim Sung-yeon. Kim Sung-yeon nella prima scena è al telefono e capiamo che è pieno di debiti. Lui in quel momento, quando capisce di essere messo molto male sul piano finanziario, si butta, perché al telefono stava parlando sopra un ponte. Ma non gli riesce di suicidarsi, perché poi si sveglia e si ritrova in un'isoletta. È un'isola in mezzo al fiume Han. All'inizio è disperato, tant'è che appena vede una barca piena di turisti, prova ad attirare l'attenzione sbacciandosi. Uno di questi turisti però pensa che lo stia salutando, perciò ricambia il saluto e gli fa una foto. Kim Sung-yeon prova ad abituarsi alla situazione, incomincia a cercare all'interno dell'isola cose che possono essergli utili e in effetti le trova. Trova soprattutto una strana barchetta, che è un enorme anatra, che diventa il suo nido. È lì che dorme, è lì che passa gran parte del suo tempo. Lui pensa che nessuno lo veda, ma in realtà c'è una persona che lo sta vedendo, da una grandissima distanza. È una ragazza. Kim Jong-yeon è una giovincella che passa tutto il suo tempo in casa. È una ikikomori che dorme addirittura chiusa dentro un armadio. Passa tutte le sue ore davanti a internet, oppure, ogni tanto, guarda fuori dalla finestra attraverso la sua macchina fotografica. O meglio, attraverso il super obiettivo della sua macchina fotografica. E in particolare si concentra sulla luna. Ogni tanto, però, guarda invece parti della città. Si accorge che su questa isoletta c'è un ragazzo. Un ragazzo che le chiama l'alieno, perché fa strane cose e lei non capisce perché sia lì. A un certo punto, però, si accorge che lui mette per iscritto sulla spiaggia dei messaggi di SOS. Quindi decide di comunicare con lui. Scrive un messaggio, lo infila in una bottiglia di vetro e esce di casa. Una cosa che forse non faceva da anni lo fa di notte, con un casco e un ombrello per ripararsi. E comincerà tra di loro una comunicazione fatta di messaggi sulla spiaggia e messaggi infilati in bottiglie di vetro. Due solitudini in qualche modo quindi si incontrano. Si incontreranno davvero, anche sul piano fisico. E lui, il ragazzo, riuscirà ad uscire dall'isola, perché lui in realtà adesso sembra contento di stare lì. Ma potrà rimanere lì per sempre? È un film bellissimo sul piano visivo. È un film in cui si ride, ma a volte bisogna anche trattenere la lacrimuccia. Non vi dico molto altro. Passo al secondo film, che si intitola La notte ha divorato il mondo. È un film francese, ambientato a Parigi nel 2018. Il protagonista è Sam, un ragazzo che deve andare a casa della propria ex fidanzata per recuperare delle vecchie audiocassette. Solo che si presenta a casa sua nel momento in cui c'è una super festa, un sacco di gente che sta bevendo. E lei non ha molto tempo per lui, perché deve accogliere gli ospiti. Quindi lui si accomoda su un divano e incomincia a bere, a bere, a bere. Finalmente lei risponta e gli dice dove andare a recuperare le cassette. Entra nella stanza, va alla ricerca di queste cassette e qualcuno apre la porta. Sono tutti mezzi ubriachi e non sanno cosa fanno. Quindi ritorna, chiude la porta e la chiude stavolta a chiave. Trova le cassette, ma comincia a perdere sangue dal naso. Quindi si siede su un divano e inclina la testa e si addormenta. Quando si risveglia, scopre che al di fuori di quella stanza è successo il disastro. Vede oggetti sparsi ovunque, sangue sui muri. Avanza pian pianino e prende già un oggetto per difendersi. Apre la porta di casa, che è già mezza aperta in realtà, e vede la sua ex e un'altra persona che sono diventati degli zombie. Perciò si chiude subito dentro. Si affaccia alla finestra e si rende conto che tutta Parigi è diventata una città di zombie. Controlla bene l'appartamento, se c'è qualcun altro, qualche zombie, non ce ne sono. Controlla quanto cibo c'è e pian pianino incomincia a esplorare anche il palazzo. Chiude il portone giù, che è uno di quei vecchi portoni molto pesanti, quindi una volta chiuso, di zombie non saranno in grado di entrare. Comincia ad adattarsi, gioca da solo, suona, addirittura si mette a fare una mezza maratona all'interno della propria casa. Pian piano però la solitudine aumenta. Aumenta al punto che addirittura sente il bisogno di richiamare gli zombie a sé, perché gli zombie, non sentendo più alcun rumore, capendo in qualche modo di non poter entrare nel palazzo, se ne sono andati via da lì. Quindi lui, che ha trovato una batteria, comincia a suonarla e attira tutti gli zombie lì sotto il portone. Ormai, insomma, è quasi fuori di testa. Non vi dico molto altro, è interessante che questo film del 2018 ha anticipato la situazione che molti hanno vissuto durante il lockdown della primavera del 2020. Il terzo film è del 2007, è di Sean Penn e si intitola Into the Wild. Qui è una solitudine che viene cercata dal protagonista, che è un ragazzo di nome Chris, che però si fa chiamare Alex, super Trump. Devo dire che ogni volta che guardo questo film lo vivo con molta partecipazione, perché mi viene in mente un viaggio che avevo fatto da solo con lo Zainone tra 2005 e 2006, in cui avevo attraversato Irlanda e Inghilterra, Grecia e Turchia. Avevo esplorato terre bellissime sia in Grecia, come per esempio Metera, che in Turchia, quando sono finito, in cima al monte Nemrut. Però al contempo mi chiedevo sempre più spesso come mai mi stessi cacciando, per mia volontà, in una solitudine sempre più fitta. Che è proprio quello che fa Alex. Alex è un ragazzo in gamba, che non ha problemi a socializzare, però decida appunto di rinnegare tutto ciò che rappresenta la società, quindi brucia i soldi, si libera della macchina, attraversa mezza America, finisce anche in Messico, ma il suo vero obiettivo è andare in Alaska. E persegue nel suo obiettivo anche quando incontra persone che lo vorrebbero trattenere in modo affettuoso, c'è un anziano che vorrebbe adottarlo, c'è una ragazza molto giovane che da lui vorrebbe altro, ma lui la rifiuta. E prosegue, prosegue finché appunto non arriva in Alaska, da solo. Ha studiato molto per poter sopravvivere, sa quindi come si deve stare nella natura selvaggia. Ha anche un fucile, ha anche un libro in cui viene spiegato quali sono i funghi velenosi e quali no, quali sono le piante velenose e quali no. Il problema è che quando un individuo è da solo contro la natura, quasi inevitabilmente è condannato alla sconfitta. Lui commette un paio di errori, un paio di leggerezze, e si trova nel punto di rischiare la propria vita. Non vi dico molto altro se non avete visto il film, nel libro invece si sa fin da subito, quella è la fine di Alex, il libro è un reportage in cui ci sono le varie persone che hanno incontrato Chris nel suo viaggio e sua sorella, e i genitori che raccontano appunto chi fosse e cosa stesse cercando nella propria vita. Chiudo con una specie di bonus track, un film di animazione che ha per tema la solitudine, e di sicuro Wall-E di Disney Pixar, in cui c'è questo robottino che è l'unico abitante rimasto sul pianeta Terra. È un robottino che si occupa di ripulire tutto, quindi prende le vecchie cose abbandonate dagli umani e poi le mette ordinatamente uno sopra l'altra. Per passare il tempo studia i ricordi degli esseri umani e diventa sempre di più in qualche modo umano, pur essendo un robottino. In realtà anche in questo caso il tema della solitudine non è il tema principale, perché poi succederà altro che porterà il robottino a non essere più da solo. Il regista della solitudine è però sicuramente Spike Jonze. Il suo film più famoso è Her, Lei, in cui il protagonista è Joachim Phoenix. Per lavoro scrive lettere e passa quasi tutto il tempo davanti al computer. Un giorno scopre che esiste un'applicazione, un programma, con cui si può comunicare fino quasi a immaginare di farlo con un essere umano. Questo programma infatti si evolve, impara tramite il dialogo e diventa sempre più umano. È questa la Lei con cui lui familiarizza fino quasi a innamorarsi. Altro suo lavoro in cui emerge il tema della solitudine è un cortometraggio, I'm Here, in cui il protagonista è un robottino che vive in un mondo in cui i robot e umani convivono, solo che i robot non possono fare quello che vogliono. Lui incontra una robottina che invece si comporta come un'umana. A volte esagera e, quando i due si conoscono, e insomma diventano fidanzati, ogni tanto ne combina una e una volta perde un braccio e quindi lui decide di sacrificarsi e cede a lei il proprio braccio. Lei una volta perde la gamba, lui si sacrifica e cede a lei la propria gamba. Come andrà avanti la storia, anche in questo caso, non ve lo dico, trovate il video su YouTube, recuperatelo. Da non dimenticare anche Il ladro di orchidei in cui il protagonista è uno scrittore, anche lì molto solitario, che ha un grosso problema con il fratello gemello e soprattutto con la sceneggiatura che deve scrivere prima che sia troppo tardi. Prima cioè che la casa di produzione lo mandi a quel paese. E voi, quali sono i vostri film preferiti sulla solitudine? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, pollice alto, perché così permetterete a questo video di essere visto da più persone. Grazie e alla prossima.